E' massacrante confrontarsi con i propri limiti tutti i giorni e andare oltre. Il momento che io ho scoperto la performance, è qualcosa che non ho mai avuto in studio e fare qualcosa di due dimensioni. Quando si performa, sei la forma, perché noi rappresentiamo tutti, la humanità. Penso che il nostro lavoro di attori o di danci, è di freare osservi completamente, così che siamo preparati per prendere qualcosa. L'arte e la vita sono una cosa per me. Io dedico tutto all'arte. Il pubblico deve capire che non è soltanto ginnastica. E non ci sono soltanto piedi e gambe. Ma c'è un cervello, c'è un pensiero. Ha lavorato con una grande determinazione. C'era una madre, aveva figli. C'era davvero vera. Non c'è la virtuosità, non c'è quanto puoi camminare. C'è molto più di questo. La responsabilità che abbiamo di fare sempre di più. Ogni sera non bisogna deludere. Perché aspettano e sono sempre lì ad aspettarti. ch devo guardare a questo caso. Per tutto. E poi è un giorno titolo. Per tutto. Grazie a tutti.